Avete mai seguito il famoso quiz televisivo? Beh, queste sono le vere domande di cultura generale che portano alla vincita. Vi va di mettermi alla prova? Ad ogni domanda corrisponde un valore che vi giudicherete ad ogni risposta esatta. Non se ne può sbagliare nemmeno una, oppure se è fuori dalla gara. Partiamo subito con la scalata al milione di euro. Per 500 euro per mandare in play un video devi cliccare sul simbolo a forma di cuore, nuvola, triangolo o croce. Per 1.000 euro Gianni riempie i due quinti di una botte con 6 litri d'acqua. Quanti litri servono per riempire il resto della botte? 5, 9, 12 o 15? 9 litri. Per 1.500 euro se stai visitando il Louvre a Parigi quale di queste opere non puoi ammirare? Il codice da Murabi, la Nikai di Samo Traccia, la Venere di Milo o la stella di Rosetta? La stella di Rosetta si trova al British Museum di Londra. Per 2.000 euro. Chi di loro ha donato 5 milioni di dollari per salvare la foresta amazzonica? Lady Gaga, Johnny Depp, Rihanna o Leonardo Di Caprio? Leonardo Di Caprio Per 3.000 euro qual è il significato del nome di origine azteca avocado? Grossa pera? Grembo? Uovo verde? O testicolo? Testicolo Cosa annunciò nel 1991 il primo telegiornale trasmesso in diretta dalle reti Finivest? L'accaduto del muro di Berlino? Lo scoppio della guerra nel golfo? Inizio di Tangentopoli? O l'elezione di Bill Clinton? Lo scoppio della guerra nel golfo? Per 7.000 euro? Tra Derricks, Thibs, Callaghan e Colombo? Chi non è conosciuto come spettore? Colombo è un tenente Per 10.000 euro In cosa consiste l'effetto cheerleader? Fare un tifo scatenato chiassoso? Sognare di restare teenager? Essere maschilisti? O risultare più attraenti in gruppo? La risposta D Risultare più attraenti in gruppo Per 15.000 euro Chi era il protagonista del primo video che raggiunse un milione di visualizzazioni su YouTube? Un gattino Barack Obama? Ronaldinho? O Papa Ratzinger? Ronaldinho? Il famoso calciatore del Milan in una pubblicità della Nike per il lancio del Nike AirTiempo per 20.000 euro Dove va posizionato a tavola il piattino per il pane secondo il Galateo? In alto a sinistra? Sopra al centro? Esterno al coltello? O in alto a destra? La risposta giusta è in alto a sinistra Puoi averla in qualsiasi colore desideri purché sia nera Era lo slogan per il lancio di quale prodotto? Calze in nylon? Bombetta? Penna a sfera? O automobile di massa? La risposta giusta è automobile di massa Per il lancio della Ford T Per 70.000 euro Per chi viene utilizzato il soprannome New York's Finest Venditori di hot dog? Tassisti? Pompieri? O poliziotti? Poliziotti Qual è il market più forte al mondo secondo Brand Finance? Disney? WeChat? Paypal? O Ferrari? Ferrari? Per 300.000 euro Chi ha inventato la sigla 007 con il significato di solo per i tuoi occhi? L'astrologo di Elisabetta I nel XVI secolo? Flaming? Flaming quando era nei servizi segreti? Un agente segreto russo dei Romanov? O Alexander Dumas nei tre moschettieri? Si tratta dell'astrologo John Dee che a corte operava anche come agente segreto e firmava i messaggi cifrati riservati alla regina con la sigla 007 dove gli zeri erano due occhi e i sette un numero fortunato il tutto a indicare appunto che il contenuto era destinato solo per gli occhi di Elisabetta I L'ultima domanda per un milione di euro nel Tour de France chi indossa la maglia Poire? Il leader della classifica Scalatori? Il leader della corsa? Il migliore della classifica Punti? O il miglior Under 25? La risposta corretta è la A il leader della classifica Scalatori mentre il leader della corsa indossa la maglia gialla il migliore della classifica Punti verde il migliore Under 25 bianca Abbastanza difficile, vero? Beh, un milione di euro non sono pochi Fino a che cifra siete arrivati? Scrivetelo nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi gli altri video Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito Pito, pata, milo, mila, tacatiki, pouletica C'est pas la joie des mito, calana, moule, macarena Pas au lettuce, pas beau, pati, mille, c'est pas ma cagusta Mamie, l'est belle, mais la moustache, c'est la picamucha Laura Laura Grazie.